Per arrivare ad avvicinare sempre di più i cittadini alle pubbliche amministrazioni, Pormes mette in campo uno sforzo quotidiano davvero importante. Ci sentiamo e vogliamo essere un grande laboratorio al servizio dell'APA. In che cosa si concretizza questo? Beh, intanto nella necessità di cambiare la nostra gestione interna. Sempre di più noi dobbiamo interfacciarci tra l'interno e l'esterno dell'istituto. E cioè dobbiamo fare della contaminazione e della conoscenza il metodo per crescere e per mettere a disposizione il nostro know-how alle pubbliche amministrazioni. Lo facciamo in diversi modi. Per esempio abbiamo rivoluzionato il nostro sistema di performance e leadership mettendo a terra, credo tra i primi in Italia, la direttiva Zandrillo del novembre 2023. Abbiamo anche la necessità, visto che forniamo alla pubblica amministrazione e progetti articolati di formazione, di riscrivere il modo in cui ci formiamo. Per questo quindi stiamo sperimentando nuovi modi di progettare la formazione, li testiamo all'interno dell'istituto e li proponiamo con i nostri progetti conosciuti, articolati e molto numerosi per la pubblica amministrazione. Grazie per la visione!